Musica Buongiorno Come si chiama il nome di questo laboratorio? Laboratorio di cucina E cosa si fa in questo laboratorio di cucina? Bisogna imparare i bambini a creare qualcosa da utilizzare poi al pomeriggio per la merenda Oggi abbiamo deciso di fare il pane e Nutella Quindi abbiamo preparato il pane, i bambini spalmeranno con la Nutella in modo che alle 4 abbiamo la merenda Settimana prossima vogliamo fare gli spiedini di frutta Quindi prenderemo della frutta di stagione e faremo gli spiedini da utilizzare anche lì con la merenda Poi nelle settimane successive solitamente si fa il salame di cioccolato piuttosto che il rotolo con la Nutella Vediamo un attimo settimana per settimana come organizzarci Quindi è un modo per avere la merenda pronta tutti i giorni e per far imparare anche i bambini a fare qualcosa di pratico in cucina Musica Musica Musica